Elio, largo al factotum. Allora, come mai la lirica, la musica classica adesso? Sì, in realtà è un errore parlare di lirica classica. In realtà questo spettacolo ha un solo scopo, quello di combattere e di battere la noia. Per cui la scelta di quello che canto è fatta solo in funzione di quell'obiettivo. Quindi combattere la maledetta noia, che è il pericolo più grosso che c'è attualmente in giro, come sanno tutti. Quindi alla faccia di chi dice che l'opera e la lirica sono una noia, sono noioso. No, io da una mia indagine interna invece ho stabilito che annoia tutto il resto. Senti, allora, musiche di Mozart, Rossini e poi anche Luca Lombardi con testi di Elio, no? Esatto, esatto. Sì, sì, adesso non posso anticipare troppo perché altrimenti chi viene qui poi non ha la sorpresa. Però partirò certamente con Mozart e Rossini e poi accompagneremo lo spettatore in un percorso che attraverserà territori improbabili e arriverà a una destinazione ancora più improbabile. Poi con i piccoli animali, no? Si parla del porco, del moscerino, della zanzara? Si parla di animali che più che piccoli, diciamo, sono degli scarti, cioè non sono mai stati trattati dagli autori. Poi marginati, diciamo. Sì, marginati, bravo, bravo. Dal mondo dello spettacolo. Gli esclusi, esclusi. Esatto. A proposito di spettatore, è un modo questo, secondo te, di avvicinare anche il pubblico più giovane alla musica importante, tra virgolette? Ma lo spero, lo spero. Diciamo che non c'è niente di matematico, soprattutto nelle cose che faccio io, ecco. Però il mio obiettivo è quello di avvicinare non solo il pubblico dei giovani, ma chiunque, a ascoltare delle cose interessanti, esattamente come è accaduto a me. Che poi questa è una cosa che arriva da Sanremo, perché noi ci ricordiamo, no? Il tuo Sanremo 2008. Hai cantato? No, in realtà parte da prima e poi quella era una tappa, diciamo, a cui ero arrivato proprio attraverso questo percorso di riavvicinamento alla musica che chiamano classica. In realtà poi, quando è stata scritta, non lo era classica. Dunque, dire che una certa cosa è classica, secondo me è fuorviante, fuorvia, fuorvia. Questo naturalmente non vuol dire che tu abbandoni la musica che tra 200-300 anni sarà definita classica, cioè quella di Elio e le storie tese. Bravissima, bravissima. Ecco, diciamo che il tentativo di Elio e le storie tese è proprio quello, cioè di far sì che fra 200-300 anni il mondo canti quasi solo noi. E non canti per fare un nome col play, ecco. Ecco, per dirne uno a caso, insomma. Allora, tra poco ti vedremo anche alla festa del cinema di Roma, perché gira un filmino su Elio e le storie tese. Ci anticipi qualcosa? Dice che, insomma, si parla del vostro privato, Elio padre di famiglia? Sì, praticamente è accaduto che ci hanno chiesto se volevamo essere i soggetti di un film che parlasse della vita di una band. E siccome io ho pensato che erano molto belli i filmini fatti da mio papà quando eravamo piccoli, in Super 8, e che non avevamo niente del genere, attualmente perché non c'è il tempo di fare niente, cioè nient'altro che cantare, allora ho detto prendiamo due e più piccioni con una fava e facciamoli questi filmini. Per cui, in realtà, uno deve pensare ai filmini che vengono fatti su Elio e le storie tese, quindi sulla vita di Elio e le storie tese dietro le quinte, che poi ci hanno assicurato che alla fine, dopo, passato tutto il festival, eccetera, ci lasceranno le pizze a noi. Per cui ci sono dei giovani autori dietro? Gratis, gratis. Ci sono dei giovani autori? Ci sono dei giovani autori, quindi è anche il metodo per fare affermare e conoscere al pubblico dei giovani autori. La cosa più strana che vedremo di te in questo filmino? La cosa più strana di me, non lo so, tutto, nel senso la vita di tutti i giorni che non ha niente di veramente strano, ma è strano che non abbia niente di veramente strano. Anche con i gemelli? Anche con i gemelli, questi, quelli della camicia. A Sanremo ti vediamo? Ti vedremo? Quando? Il prossimo febbraio. No, adesso ci siamo andati troppe volte, basta, diciamo che ci siamo andati più di quello che avremmo voluto andarci, per cui ora una lunghissima pausa. Invece X Factor ti manca? X Factor non mi manca, però... No, ma io non l'ho mai visto, non è che adesso Elio non guarda X Factor, non l'ho mai visto, veramente. Elio attacca Manu e l'Agnelli. Ma che attacca Manu e l'Agnelli? Anzi, siamo amici da tantissimi anni, ma come no? Non è Elio, però si pagava. È cattivissimo. Beh, neanche io sono lui, scusa. Ognuno ha la sua personalità. No, no, però sono affezionato a tutta la compagnia di X Factor, per cui in quel senso sì, mi mancano. Allora, intanto largo al factotum. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.